Eh, sono... cioè, vabbè... C'è il biglietto, c'è il biglietto! Però vabbè... Giorgia, pezzetti! Pure a pezzetti! Ma è il biglietto! No, devi sanzito! Nooo! Spiegalo! Ok! Ah, sì! Allora, sta iniziando un nuovo anno! Vorremmo regalarti un futuro ricco di successo e d'amore Questa sera ti doniamo il nostro cuore Moniberi, Serenoss, Marti, Mara... Mara... Mara e Laura... Ila! Marilu, Monife... Eh... Marilu... Nooo! Giulia... Giulia... Locara... Locara? L'ho scritto, lo scritto! Ok! Irene... Angelica... Emilia... Vale... Matilde... Elisabetta... Maria... Claudio... Raffa! 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 Salud! Salud! Nooo! Zitto! E dai! Ma chiudi! Ma chiudi! Sì, da favore! Ilaria... Elisa... Bina92... Vale & Marti... Sarito la 93... Noemi... Carmi & Mari... Ma non mi sto a sentire male ancora per Giorgia... Noi... 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 Domani mattina analizzavo questo... Marini... Leanto... Raffi... Revi... Francesca... Gio... 13... 12... Tip... La 94... Sara... Osimo... Cosi? Ah... Chiara... Asimo... Asimo... E' vero... Ti aggiungi... Mi ha già fatto venire il nervo... Chi? Scheraccia... Un cavallo scheraccia... Un cavallo scheraccia... Lo scheraccia... Nooo... Lo scheraccia... Scusa... Te lo guardi te... Eh... una volta le guarda te... Ma... non c'è il computer... Si no... Ora no... Si sente piano... Si sente piano... No... Raga no... 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 Però un po' di tempo fa... Pensa che un po' di tempo fa... E non ridere quando lo guarda... Non ridere... Non ridere... Non ridere... Non ridere... Casi non ci fai a dare il culo perché... Ti stai ripensando... Tu era tipo... Non più vuole affrontare... Chiava mentire di averlo fatto... Ma a bocci migliore... C'è stata presa adoro... Oddio... Ma che cosa è? Eh... Apri... Ma non lo è vero... Ma... Ma vedi da tre pezzi? Ehm... Lei già si è staccata... Di... Di regalo... No... C'era l'acca... Ah... C'era l'acca... Non lo sapeva. Hamma. No, me sapevo. Templum salutis. Un meraviglio super... Un meraviglio super... Un meraviglio super... Un meraviglio super... Filosofia di vita che nasce dall'antico mondo romano, c'è la consapevolezza che mente sana in corpore sano. Mente sana nel corpore sano. Ok. Il latino! Due mesi di latino ho fatto. Mentre gli altri hanno fatto un anno. Un luogo dove il tempo si ferma e lascia spazio alla cura del corpo e dell'anima. Un luogo nel quale poter ritrovare la gioia di dedicarsi a se stessi... La? La gioia di dedicarsi a se stessi ed essere immucolati almeno per un po'. Questa realtà prende il nome di Hamma Temple Salutis. Lietiti ospitarvi. Come parole? Non ha capito. La mamma. Che è la mamma. La mamma. È sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma. Posso ne capire dov'è? Di buono. Allogia. Io ci metto tutta la mia volontà. Però è un capione. Cioè valida per tre mesi vuol dire che devo andare in un posto. Sì. 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 È Roma. È Roma. È Roma. È Roma. È San Cassia. E cè tempo o tre mesi? No ci fanno domani mattina. Se non teoria ci dovresti essere stata in quel posto li han detto. Cioè non lo sapevamo. Ci è rossata una Cassandra. Ma non sai se è il Vio��o. Sì. Non si sarebbe stata. Piasc Glenn so no no. Ma non ci sei mai stata. Forse era un'altra Cassandra, non è che c'è solo lei di Cassandra Ma allora non è Roma Ragazzi fatevi avvicinare un attimo, vanno via loro